Che brutto quarta roba! Non ho niente da mettermi! Questo è troppo rosa! Queste sono di due taglie più grandi! Queste non sono abbastanza costose! E queste sono passate di moda! Oh, le odio! C'è qualcuno? Chi va là? No! Aspettate! Tornate qui, scarpe! Non dicevo sul serio! Vi adoro! Oh, hai visto la faccia di Chloe? All'aria affranta! Sentirà la mancanza della sua amica? Sabrina è assente da ieri! Che strano! Che cosa c'è, Chloe? Qualcuno mi ha tirato i capelli! Non sono stata io professoressa! Non è stata lei! È stato... È stato... Un essere invisibile ed estremamente malvagio! Una specie di fantasma! Oppure un unicorno o senza corno! Ragazzi, fate silenzio e tornate al compito! Oh, vede! Sta ricominciando! Chloe, seduta! Non posso! La mia morsetta mi sta picchiando! Chloe, è vietato correre in classe! Torna al tuo posto! Ricomponiti, Chloe Bourgeois! Tiki, dobbiamo uscire da qui! Professoressa, posso andare in bagno? Grazie! Posso andarci anch'io? Sembra che qualcuno ce l'abbia con Chloe! Sarebbe più facile cercare chi non ce l'ha con lei! Sta succedendo qualcosa di strano! Dobbiamo fare qualcosa! Tiki, transformami! Plagg, transformami! Voler bacchiare la reputazione di mia figlia è un po' come voler disonorare il sindaco di Parigi! Che poi sarei io! Attaccare Chloe come attaccare Parigi! Troveremo il colpevole, sindaco Bourgeois! Glielo prometto! Chloe, tesoro, ci sono degli ospiti speciali per te! Lady Bug! Sapevo che sareste venuta a salvarmi, visto che siamo amiche del cuore noi due! Ho contattato con urgenza i più grandi stilisti di Parigi! Riuscite a immaginare mia figlia vestita con abiti dozzirali! Sarebbe un'umiliazione! Hai avuto problemi con qualcuno di recente? Impossibile! Non ho problemi con nessuno, anche perché tutti mi adorano! Ne sei sicura? Neanche con gli amici più stretti? Sabrina! È impossibile! Lei mi venera! Sono il suo idolo! La faccia restare qui, con porte e finestre chiuse! Il cattivone sarà anche invisibile, ma dubito che trapassi i muri! Sono sicura che grazie a te la mia vita tornerà perfetta come prima! Che succede? Sembra io! Ci nasconde qualcosa! Qualsiasi cosa ci dirà resterà fra noi! La signorina ha avuto un problema con una persona! Alla signorina piace giocare a Ladybug e Chat Noir con la sua amica Sabrina! Due giorni fa mi ha chiesto di interpretare il ruolo di Superbaffo! Superbaffo? Un'idea della signorina Chloe! Superbaffo vuole affibbiare a tutti gli abitanti di Parigi degli enormi baffi! Wow! Un caso da pelo e contropelo! Continui, la prego! La ringrazio di avermi concesso questa intervista dedicata all'uscita del suo nuovo album, signor Stone. Potrebbe dirci a chi... Jagged Stone! Ladybug, che cosa ci fai qui? Quando ho saputo che c'eri anche tu, immaginavo che avresti voluto salutarmi, così sono passata a trovarti! Brava, hai fatto bene! Ehi, ma che cosa hai fatto ai tuoi capelli? Oh! Il colore che avevo prima era orrendo! Questo è molto meglio! Non trovate? Ho un po' di tempo da perdere, cara Nadia! Sono sicura che sarà lieta di intervistarmi! Ehi, un momento! Credevo che fossi passata solo per salutarmi! Sì, infatti! Dove eravamo rimasti? Come ha osato spacciarsi per me! E l'avrebbe fatto anche altre volte! Diciamo che la venera... Chloe, ho trovato il super baffo! Chloe? Ma... Lei non è Ladybug! Si è presa al gioco di me! Ma che sta dicendo? Sono proprio io, Ladybug! Guardi! Scusa, io, Chloe... Come potevo saperlo? Questo è il tuo problema! Tu non sai mai niente di niente! Perfino il suo coccodrillo è molto più intelligente di te! Vattene! Non voglio vederti mai più! A volte la signorina Chloe discute con la sua amica Sabrina. Anzi, sarebbe più corretto dire che capita di consueto. Ma questa volta è stato diverso. Il giorno dopo Sabrina è tornata e... Sabrina chi? Non conosco nessuna Sabrina. Certo che mi conosci, Chloe! Sono io! La tua migliore amica! Signorina, ha bisogno di parlarle. Ferma lì! Mi dispiace, ma non vedo nessuno. Forse è invisibile? Per quanto mi riguarda è come se non esistesse. Quest'essere invisibile deve essere per forza Sabrina. E Tapion deve averla cominciata. Direi che è impossibile! Quell'essere inutile è fin troppo codarda per vendicarsi di me! Vi sbagliate? Il suo aiuto è stato prezioso. Grazie. Sarà difficile trovare qualcuno che non vediamo. Ecco perché aspetteremo che sia lei a trovarci. Abbiamo un vantaggio, non sa che la stiamo cercando. Beh, adesso lo so, Ladybug. È il momento di onorare il nostro patto, invisibile. Shanuara e Ladybug sono nelle tue mani. Prendi i loro Miraculous e portameli subito! Non si accorgeranno neanche di me, Papillon. Il fiore! Lei... Attenta, Ladybug! Se sei tu l'invisibile Sabrina, per me sarà molto più facile metterti K.O. Non sei riuscita a trovare il mio costume? Dovrai vedertela con me! Lucky Charm! Molto utile! È me che cerchi, Sabrina? Sono qui! Vieni! Oh no! Fai sul serio! Non stare lì! Se la smetti con questa pagliacciata, forse potrai tornare a essere la mia migliore amica. Tu non hai amici, Chloe. E non ne avrai mai più. Per tutta la vita. Perché farò in modo che tu non ne abbia. Non mi fai paura! Tutti vogliono essere miei amici! Questo non è un gioco, Chloe. Perché è finita, Ladybug? No, non ancora, invisibile. Solo perché mi vedi non significa che riuscirei a sconfiggermi, Ladybug. Oh, guarda che ti difende! Rasta qui! Non muoviti! Ehi! Riguarda anche me! Ricordatelo! Dobbiamo distruggere il suo zaino e catturare la kuma! Aspetta, Ladybug! Non credo che il suo kuma sia lì dentro! È così che intendi combattermi, Chloe? Puoi pensarci tu, Chat Noir? Con piacere, collega! Aspetta! La kuma è nella spila che indossa! È la rosa attaccata al maglione! Ci tiene tantissimo! Alla spila, non al maglione! Gliel'ho regalata io! Non lo ripeterò un'altra volta! Ascoltami bene! Devi andartene da qui! È troppo rischioso per te! E anche per noi! È chiaro? Ma perché non mi ascolti? Ti ripeto che la kuma è nella sua spila! Che stress! Niente più malefatte, piccola kuma! Che cosa ti avevo detto? Allora, chi è che aveva ragione? Niente più malefatte, piccola kuma! Ladybug sconfinge il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Ladybug! Non è possibile! C'era quasi riuscito! Ah! Ma che... Che cosa è successo? Cosa ci faccio qui? Oh no! La spila che mi ha regalato Chloe! Perché non hai dato retta a Chloe? Cercava di darci una mano! Primo, perché ci ha messi in pericolo! E secondo, perché ci aveva appena mentito! Perciò non ho dato retta a una bugiarda! Che cosa? Mi hai dato della bugiarda? Ma come osi? Ero una tua fan! Ma ora basta! Non meriti la mia ammirazione! Siamo in diretta dalle Gran Parie, dove Ladybug e Chat Noir hanno appena sconfitto l'invisibile! Eccoli, stanno uscendo! Sì! 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 Una un po', un'ammiratrice delusa da Ladybug! Ho trovato il modo per dimenticare l'invisibile e il suo fallimento! È un'idea dir poco magnifica! Vola da lei, piccola Akuma, e oscura il suo cuore! Antibug? Sono Papillon! Ladybug ti ha fatto del male? Se vuoi, puoi vendicarti! Dimmi cosa ne pensi di un'alleanza per distruggerla! Puoi contare su di me, Papillon! Presto a Parigi non esisteranno altre supereroine all'infuori di me! Antibug! Chat Noir e io siamo una bella squadra! È arrivata la tua ora, Ladybug! Una poli domanda! Perché non risponde? Scusate! Ma devo andare alla prossima? Grazie, Ladybug! Se non vi avessi dato una mano, non sareste riusciti a sconfiggere l'invisibile! E adesso sarò io a sconfiggere voi! Chloe! No, cari, vi sbagliate! Io sono Antibug! Ho un piccolo problema, devo allontanarmi subito! Sta tranquilla, penso io a lei! Guardatela, senza Chat Noir non vale niente! Ci rivedremo molto presto, stanne certa! A quanto pare siamo soli, Antibug! Ti fa piacere, vero, micetto? Oh no, non ho nulla da darti, da mangiare! Tranquilla, Marinette, troverei qualcosa! Ci proverò! Ladybug è scomparsa! Come farà Chan Noir a combattere Antibug da solo? Oh, è tutta colpa mia! Non puoi fare sempre tutto da sola! Ogni tanto devi ascoltare anche gli altri! Hai ragione, Tiki! Ma adesso dobbiamo andare subito ad aiutare Chat Noir! Troveremo il cibo alle Grand Paris! Chat Noir! Fa presto, Tiki! Ce la sto mettendo tutta! Non ti dà fastidio lasciare che Ladybug si prenda sempre tutti i meriti? E a te non dà fastidio imitare Ladybug! Continuo, Antibug! Chan Noir è un'esca perfetta! Unisciti a me, Chan Noir! Mai! Sei la sua coppia sviadita! Ladybug e io siamo una squadra! Anzi, spero che si sbrighi ad arrivare! Tanto lo so che mi senti, Lady Fiffona! Dove ti nascondi? Devi scegliere! Se vuoi che risparmi Chan Noir, dovrei venire qui e consegnarmi il tuo Miraculous! Qualora ti rifiutassi, ti consiglio di guardare bene Chan Noir, perché sarà l'ultima volta che lo vedrai! Ora punterò fino a dieci! Uno! Vuoi arrivare a venti? Due! Mi serve più tempo, va a salvare Chan Noir, Marinette! Ma non posso trasformarmi! Tu sei Ladybug, con o senza il tuo costume! Non credo che sia proprio così! Tre! Ti sto dando un consiglio! Accettalo e non commettere lo stesso errore di prima! Mi è venuta un'idea! Quattro! Chan Noir e io siamo una bella squadra! Ladybug! 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 Chan Noir e io siamo una bella squadra! Credi di essere tanto furba, eh? Fatti vedere, Lady Fifona! Pronta per il secondo round? Ha funzionato! Sei pronta, Marinette? Sì! Diki, trasformami! Ha! Gattaccio insolente, vieni qui subito! Spiacente, non prendo ordini, soprattutto da una bugiata! Bello il tuo yo-yo, ma il mio lo è di più! Bentornata! Scommetto che la kuma è nello yo-yo! Io scommetto che è negli orecchini! Perché? Perché l'indossava già quando è stata kumizzata! E poi il suo yo-yo era rotto! Ah, sei un acuto osservatore per essere un gatto! Gattaccio! Gattaccio! La ghi-charm! Delle biglie di vetro! Che cosa dovrei farci con questo? Pensi davvero di sconfiggermi con delle biglie? Povera illusa! Vedi? È questo il tuo problema, ti fermi alle apparenze! Sei pronto? Vai! Sbarazziamocene! Vedi? Non puoi proprio fare a meno di San Noir! San Noir e io siamo una squadra! Se vuoi lottare contro di me, dovrai lottare anche contro di lui! Non è colpa mia se tu non hai amici! Prendi il suo Miraculous prima che sia troppo tardi! Cataclisma! Niente più malefatte, piccola Akuma! Lady Bug ha sconfiggermi il male! Presa! Ciao, ciao, farfallina! Miraculous Lady Bug! Che ci faccio qui? Ben fatto! Lady Bug? Chloe? Senti, mi dispiace per prima. Avrei sconfitto l'invisibile più rapidamente se ti avessi dato retta. Oh! Se le cose stanno così, posso riconsiderare la mia decisione? Ah sì? Quale decisione? Alla fine penso proprio che rimarrò la tua fan numero uno! Oh! Sì, beh, grazie! Almeno credo! Allora, lascia che ti dia un consiglio, Chloe. Devi fare pace con la tua amica Sabrina. Wow! Sei Lady Bug che me lo chiede! Grazie del consiglio, San Noir! Di niente! Siamo una squadra, no? Un'ottima squadra! A presto! Ehi, ecco Lady Bug! Seguita dall'invisibile! Mancano solo Lady Bug e San Noir! Allora, che stai aspettando? Siediti! Hai visto? Chloe le ha fatto un leggero sorriso, a modo suo. Ho l'impressione che sia contenta di aver ritrovato Sabrina. Strano, ma vero. Entrambe sembrano felici. Mettela sul tuo maglione e lo renderà più decente. Oh, grazie, Chloe! Sì, sì, c'è tempo per i ringraziamenti. Comincia la lezione. Credo che quelle due saranno amiche per sempre. A loro modo. Io preferisco la nostra di amicizia. Chiudi Leto! The Uniscus A Grazie per la visione!